Pronto? Sì, Giannis? Ciao, allora noi ti vorremmo offrire per i prossimi cinque anni 254 milioni di dollari. Veramente? Aspettate un attimo. Ah, quindi sono 230 milioni di euro circa. Sai, io sono greco quindi preferisco ragionare in euro. Ah, 230 milioni di euro? No, non sono interessato. Ti ringrazio. Ciao, 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 ciao. Ecco, più o meno, intanto bentornati su Bobbasket, potrebbe essere questa, in maniera anche un po' italianizzata, la discussione tra il management dei Milwaukee Bucks e Gianni Settetokounmpo l'anno prossimo, quando alla scadenza del contratto la formazione dei Milwaukee Bucks potrà offrire al giocatore greco, MVP della scorsa stagione della NBA, la bellezza del Supermax da 200, il contratto Supermax da 254 milioni di dollari. 254 milioni di dollari. Ve lo ripeto ancora una volta perché è la cifra chiave di tutto il video di oggi. Perché di che cosa si parla? Del fatto che l'anno prossimo il buon Gianni Settetokounmpo sarà free agent e quindi avrà la possibilità di o rifirmare con la sua squadra che sarà l'unica a potergli offrire quella cifra, oppure andare a esplorare il mercato. Tutti ormai parlano della possibilità che Gianni Settetokounmpo lasci i Milwaukee Bucks anche prima della scadenza naturale del contratto fissata per il 30 di giugno del 2021 e a prodi, pensate un po', rullo di tamburi direttamente sulla baia alla corte di Stephen Curry che sarebbe nuovamente ben disposto secondo me direi a dividere la corona di giocatore simbolo della franchigia della California come l'ha fatto con Kevin Durant con un'altra superstar come Gianni Settetokounmpo. Cosa c'è dietro tutta questa storia? Dietro tutta questa storia c'è fondamentalmente la possibilità di poter rifirmare l'anno prossimo un giocatore incredibile come il Greco. In pratica il Greco va in scadenza a giugno 2021. I Milwaukee Bucks non sono così certi di poterlo rifirmare. Lui per ora non si è ancora espresso in merito. Cosa succederà? Lo scopriremo probabilmente tra qualche mese anche se si inizia a vociferare. Lo ha fatto il San Francisco Chronicle, il giornale di riferimento, il quotidiano di riferimento della zona della Bay Area per iniziare a, diciamo così, assoldare il giocatore greco alla corte di Stephen Curry. Problemi? Ce ne sono parecchi. Innanzitutto il discorso economico perché solo i Milwaukee, come dicevo prima, è la squadra che li può offrire un contratto del genere, dovesse andare in una delle altre 29 franchigie con Golden State in pole position Gianni Santetokounmpo non andrebbe sicuramente a prendere quel tipo di denaro. È chiaro che parliamo di cifre spaziali anche nel caso in cui dovesse essere un'altra delle 29 franchigie dell'NBA oltre ai Milwaukee Bucks ad accapararsi Gianni Santetokounmpo ma è evidente che con il suo approdo in una qualsiasi altra squadra cambierebbe veramente il panorama della Lega soprattutto se dovesse andare ai Golden State Warriors perché andrebbe a rifirmarsi, andrebbe a riformarsi una coppia incredibile prima quella Durant e Stephen Curry poi dall'addio di Durant. Orfano, diciamo Stephen Curry che comunque era in buona compagnia di Thompson e di Draymond Green e anche di Andrew Higgins almeno in quelle poche settimane in cui si è giocato con Curry ritornato dall'infortunio e con Higgins arrivato insieme al suo grandissimo contratto che conta più di 25 milioni di dollari l'anno sulla Baia ma ora potrebbe cambiare lo scenario. O intanto la cosa che fa un po' sorridere in tutta questa storia è che proprio ieri l'account Twitter di Gianni Santetokounmpo è stato hackerato e tra i vari post anche certi di dubbio gusto sul povero Kobe Bryant o su altre situazioni legate all'NBA ce n'era uno di questi post del profilo di Antetokounmpo hackerato che diceva ciao Bucks vado fondamentalmente diceva una cosa del genere diceva ciao Bucks io vado a San Francisco. Chissà se succederà però dalla parte dei Golden State Warriors ci sarebbe tutto l'interesse soprattutto sembra che Bob Myers il GM della società della franchigia stia lavorando in tal senso anche eventualmente con l'idea di poter pensare di cedere uno tra Thompson e Draymond Green oltre ad almeno tre prime scelte se si dovesse arrivare a imbastire un contratto del genere uno scambio del genere con i Milwaukee Bucks prima della scadenza naturale dello stesso per far sì che Milwaukee si possa tutelare e non perdere il Greco a zero senza averne nulla in cambio e dall'altra parte comunque con la possibilità per Golden State di mettere le mani su un giocatore clamoroso sempre con il distingo del fatto che al 30 di giugno della prossima stagione del 2021 quindi il contratto di Antetokounmpo sarà in scadenza naturale e quindi andrà a poter rifirmare per i successivi nell'idea spettacolare di Golden State sarebbe mandare Andrew Wiggins e tutto il suo contratto ai Milwaukee Bucks anche per discorsi di compatibilità di salario tra quello di Antetokounmpo e quello appunto di Wiggins però penso che sia evidente che secondo me l'unica possibilità per cui i Milwaukee Bucks potrebbero anche solamente pensare dovessero avere il sentore che Antetokounmpo non voglia rimanere a Milwaukee di imbastire uno scambio credo che per forza di cose ci dovrà essere dentro Clay Thompson più ancora di Damon Green al di là poi delle minimo tre scelte future al draft da cedere proprio ai Milwaukee Bucks se gli stessi Milwaukee dovessero come dicevo prima accorgersi che Antetokounmpo possa valutare di non rifirmare per i Bucks al termine della prossima stagione e dunque di dichiararsi free agent Antetokounmpo non è Kevin Durant soprattutto non arriverebbe con Kevin Durant come arrivò Kevin Durant quindi con ancora Curry Thompson e Draymond Green però probabilmente potrebbe essere più compatibile nel sistema di squadra o compatibile Durant lo è stato perché ha portato due titoli consecutivi il terzo li ha sfumato quando probabilmente si è fatto male l'ultima volta nelle finali della passata stagione chissà se avessero fatto il tripit se Durant magari sarebbe rimasto però dicevo potrebbe essere più compatibile perché mi sembra un giocatore che chieda meno la palla in mano rispetto a quello che poteva essere Durant e al livello di efficacia con il N7 magari potrebbe fare anche di più di Kevin Durant di quando aveva Kevin Durant con Antetokounmpo che però probabilmente non sarà mai un giocatore o almeno non lo sarà nelle prossime stagioni del livello quantomeno offensivo a cui si è elevato Durant nella sua carriera penso che sia un gradino un pochettino più in basso Antetokounmpo rispetto a Durant però la chiave almeno dal punto di vista dei Golden State Warriors è legata proprio a tre possibili scenari il primo che Antetokounmpo scelga di firmare rinunciando a tanti soldi con Golden State all'inizio della free agency della prossima stagione il secondo che quello che vi raccontavo prima ossia una trade prima della free agency quindi con i Golden State Warriors costretti tra virgolette a mettere sul pacchetto una serie di opzioni molto interessanti per far sì che Milwaukee potesse eventualmente accettare questa fantascientifica mossa di mercato e un'altra ipotesi che poi era quella lì che di fatto aveva portato Durant ai Nets nella scorsa estate il sign and trade con la possibilità quindi da parte di Golden State di mandare comunque un certo numero di giocatori per comparabilità con il salary cap dei Golden State Warriors e dei Milwaukee Bucks dall'altra parte per i Milwaukee Bucks di non perdere a costo zero il giocatore più forte che c'è nell'NBA almeno l'ha dimostrato nella passata stagione ma avere un pacchetto quantomeno con il quale ripartire no perché parliamo della squadra prima nella Lega proprio prima del lockdown quindi con una squadra già con un'interagliatura di un certo tipo ma è evidente che senza Kevin Durant tutti gli altri giocatori scusatemi senza Gianni Stato Kumpo tutti gli altri giocatori che Golden State potrebbe mandare ai Milwaukee Bucks sarebbero comunque meno rispetto al talento del greco non so cosa succederà credo non lo sappiate anche voi non lo sa probabilmente neanche Bob Mayers non lo sa neanche lo staff e il management dei Milwaukee Bucks io credo che l'unico a saperlo e l'unico ad avere il pallino in mano è il buon Gianni Stato Kumpo sarà lui a decidere ma credo che nei prossimi 12 mesi anche abbondanti al di là del lockdown della pandemia e della speranza che si possa tornare sul parquet il più presto possibile l'argomento di discussione per eccellenza sarà dove andrà Gianni Stato Kumpo a partire da luglio 2021